Il Ministero dei Trasporti ha dato il via libera per utilizzare i 9 milioni di euro necessari per la messa in sicurezza e la riapertura dell'assila mare, chiuso dopo il crollo del viadotto il 3 maggio scorso. A comunicarlo in una nota è proprio lo stesso il MIT. Il Ministero guidato da Matteo Salvini ha dato via libera ad ANAS per utilizzare la somma. La stessa ANAS, d'intesa con la Regione Calabria, sta effettuando verifiche per la ricostruzione del viadotto. L'obiettivo è quello di ricercare soluzioni tecniche che garantiscano la massima sicurezza. Giovanni Pirillo ha dato notizia durante il Consiglio Comunale aperto alla comunicazione della Procura di Castrovillari, con la quale si invita l'ANAS a voler predisporre per la premessa in sicurezza della strada, nonostante sia ancora in vigore il decreto di sequestro. Ma intanto Domenico Furgiuele, il vice capogruppo della Lega della Camera, ha ringraziato il Ministro. Questa è l'ennesima conferma del nostro impegno per la Calabria, ad esempio del buon governo. A stretto il giro è arrivata anche la nota del PD, con una nota a firma dei parlamentari del Partito Democratico, Marco Simiani e Nicola Irto. Il primo passo, dicono, è compiuto. Ora ci sono le risorse finanziarie che avevamo chiesto al Ministero, proprio per iniziare a ripristinare la viabilità sulla statale 177, diritto sacrosanto dei cittadini e degli automobilisti. Ma continuano ancora nella nota che sono state programmate ulteriori verifiche, proprio per eventuali adeguamenti strutturali di impalcature, strutture elevate e fondazioni lungo la statale 177. Il Ministero ci ha infine assicurato, concludono così i due parlamentari del PD, insieme all'ANAS della cronoprogramma, con i relativi finanziamenti di tutti gli interventi necessari sulla statale Silamare. Grazie. Grazie a tutti.